Salve popolo digitale, benvenuti in questo video. Scusate per la mia lunga inattività, questo video sarebbe dovuto uscire almeno due settimane fa, ma ho ripreso a lavorare come elettricista e quindi ora ho poco tempo a disposizione per fare video. Infatti anche questo video durerà solo qualche minuto. Perciò come da titolo vi mostro come seguire correttamente la prova col giroscopio per determinare se la Terra gira o meno. Allora ogni volta che viene seguito il test il giroscopio è posizionato orizzontalmente in base alla nostra prospettiva, ma è un errore. Infatti è per questo motivo che il giroscopio non rileva alcun movimento dato che gira insieme alla Terra. Quindi per poter seguire correttamente la prova bisogna posizionare il giroscopio in modo tale che formi un angolo retto, ovvero di 90 gradi con l'asse di rotazione della Terra che corrisponde al polo Nord-Sud geografico. Quindi nel dettaglio per poter seguire la prova bisogna trovare la nostra posizione. Prendere un goniometro o qualsiasi altro strumento che ci permette di sapere a quanti gradi ci troviamo dall'asse di rotazione e quindi ruotare il giroscopio verso il polo Nord-Geografico o polo Sud nel caso ci si trova nell'emisfero Sud in modo tale che formi un angolo retto con l'asse di rotazione. Fatto ciò si può avviare il giroscopio e aspettare qualche minuto per vedere i primi risultati. Nel dettaglio in un minuto il giroscopio deve ruotare di 0,25 gradi in 5 minuti deve ruotare di 1,25 gradi in 10 minuti di 2,5 gradi in 30 minuti di 7,5 gradi in 1 ora di 15 gradi in 2 ore di 30 gradi in 6 ore di 90 gradi in 12 ore di 180 gradi in 18 ore di 270 gradi e in 24 ore di 360 gradi circa. Come vedete bastano pochi minuti per rilevare già un eventuale segno della rotazione della Terra. Comunque siccome non ho un giroscopio a disposizione e l'attrezzatura adatta ad eseguire il test mi auguro che qualcuno di voi possa farlo seguendo le mie istruzioni per poi condividere i risultati. Dunque questo video finisce qui in futuro caricherò altri video forse con una frequenza minore ed un format diverso probabilmente direttamente dal cellulare ma comunque la mia ricerca continuerà e i risultati li condividerò con voi su YouTube. Quindi a presto e buona vita a tutti.